bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono nico oggi siamo qui in un nuovo video ragazzi di fortnite perchè volevo vedere una cosa con voi non so se funziona attenzione lo specifico però mi hanno detto che questo metodo funziona per ottenere vbac gratis non lo so se funziona io provo ma non lo so voi provate cose voi provate allora io non lo so se non so nemmeno se a me funziona o c'è il mio what 5.000 vbac troviamo con poco generazione di 5.000 vbac vediamo raga attivare vabbè ci fa scaricare qualche app vediamo proviamo non lo so se funziona vediamo se funziona ragazzi se non funziona pazienza io intanto ci sto provando clean fox spam no come spam what 30 secondi vediamo raga appena mi arriva qualche virus mi incazzo no non mi interessa questo sta la clean fox regista di non mi interessa vince il novissimo iphone 12 vediamo raga non lo so se no col cazzo che vi do l'email raga mi sa un po' di cazzata c'era un altro sito per provare vediamo se ce n'è se vedete che c'è se vedete c'è scritto leggi cinesi e per la ricerca della scuola non vorrei mettere un titolo clickbait perché non mi interessa però lo voglio provare qui insieme a voi perché ci dovrebbe essere qualcosa che ci dovrebbe essere ceva dovrebbe funzionare perché l'ho visto in un sito che cazzo c'è ecco ok vediamo xbox caro giocamento ammettico non è il tuo portafoglio no ma questo qui io parlo dei vbac xbox jet free vbacs dovrebbe essere questo ragazzi eh non lo so però se funziona dovete se funziona download download probiamo di nuovo ragazzi no ragazzi non fidatevi di questo di questi siti di questi qua che vi mettono su youtube io ve l'ho messo per farvi vedere che sono virus perché sono virus qua sulla cina Alessandro Manzoni sono cose mie per personali però ok ragazzi non fidatevi di quello che vi mettono che cazzo è che chiama graziella pino si è la sorella di mio padre ok comunque ragazzi volevo dirvi di non fidarvi di questi siti perché vi mettono solo virus niente ragazzi volevo avvisarvi di questo qui danico è tutto iscrivetevi ovviamente mi raccomando lasciate un bel like un commento di supporto qui danico è tutto bella ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie 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 a tutti.